E' stata rinnovata la convenzione operativa per attività di ricerca a titolo gratuito tra l'ASL Brindisi e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono coinvolti in particolare il Dipartimento Oncoematologico, Radioterapico e Radiodiagnostico, diretto da Maurizio Portaluri, e per il CNR l'Istituto di Fisiologia Clinica, l'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. La convenzione rientra nell'accordo quadro tra il Consiglio regionale della Puglia e CNR ed è al servizio della prolifica attività di ricerca di tutte le unità operative che fanno capo al Dipartimento. La precedente convenzione, avviata ad aprile 2022 e conclusa a giugno 2023, ha avuto come obiettivo la realizzazione di attività di Health Technology Assessment e la valutazione dell'impatto del Covid sulla salute dei pazienti e sul sistema sanitario. La collaborazione ha prodotto per il primo argomento una review sistematica sull'impatto economico della MRI Guided Radiotherapy e per il secondo una review sistematica sugli effetti positivi dell'attività fisica per la mitigazione del burnout degli operatori sanitari.